Il mixer MIDI di Merish 4 permette di modificare in tempo reale il mixaggio di una base musicale. Si aziona ruotando i potenziometri e le modifiche sono efficaci in tempo reale sulla base che sta suonando e su tutte quelle che seguiranno. Se ad esempio vogliamo abbassare il volume del basso per tutte le basi MIDI possiamo farlo agendo un'unica volta sul potenziometro relativo a quella famiglia di strumenti. Il mixer può essere attivato o disattivato con un tasto touch alla destra del display. Il mixer può essere utilizzato anche per modificare l'arrangiamento delle basi musicali. Eccone un breve esempio. Grazie per la visione!